Ci sono delle realtà, delle situazioni che purtroppo fanno di Taranto una città del terzo mondo. Quando vi racconterò questa situazione sarete quasi costretti a darmi ragione. Ci troviamo al quartiere Paolo VI in Piazza della Liberazione. Ho qui accanto la signora che supporterà quello che vi sto dicendo. Il primo giugno, quindi poco più di due mesi fa, un allagamento enorme andava letteralmente a inondare le abitazioni adiacenti, tra cui l'abitazione della signora Lacausa, non esiste un sistema di drenaggio, di sfogo regolare delle acque. In questo modo le acque, non avendo i naturali canali di sfogo, vanno a convogliarsi qui e provocano inondazioni. Quindi non ci sono i canali di sfogo, quelli che c'erano con i vari lavori di asfalto da parte di ditte per utenze private. Molti di questi canali sono stati appunto tappati, altri canali sono completamente ostruiti ed è chiaro che si allaghi tutto e i malcapitati abitanti si trovano inondati. Signora, a lei la parola. Allora, io sono molto delusa dell'amministrazione comunale perché questo è il secondo allagamento che ho. Quindi 2023. Nel primo giugno 2023, l'altro il 15 ottobre del 2016. L'amministrazione comunale non ha fatto mai nulla, anzi hanno peggiorato la situazione con lavori di potenziamento di energia elettrica, della fibra, hanno rotto strade, marciapiedi, non hanno mai ripristinato niente e non puliscono, non creano scuri. C'è, ce n'è uno ma non l'hanno mai pulito, i tombini non hanno mai portato la manutenzione di qualche tombino. Quelle grate che c'erano sono state anche molte volte asfaltate, chiuse? Voglio dire, abbiamo chiesto l'intervento di qualcuno, ogni giorno mandiamo. L'amministrazione comunale. Telefoniamo ai vigili dicendo che manderanno la segnalazione, ma fino ad ora non si è fatto vedere nessuno. Anche perché i lavori penso che d'urgenza andavano fatti, visto che sui tamburi, le tamburi, stanno lavorando per i marciapiedi, seppur in forma sbagliata, perché non... Sono follie quelle che stanno facendo, come i marciapiedi. In forma sbagliata. Ma li stanno facendo. Era da prendere in situazioni, ci sono delle priorità, quale questa, perché a settembre fare i lavori significa con la pioggia, lavorare, perché loro sono abituati forse a lavorare con la pioggia. Ecco signora, ma il rischio è che quanto già accaduto possa, pari pari pari, ripetersi, perché le cause non sono state rimosse, ostruzioni c'erano e ostruzioni ci sono. I primi di salute, perché mi sono contusa le costole, le fibia, le tibia, e non riuscivamo a uscire da casa, nonostante con la basculante chiusa, perché abito in una villetta al numero 31, dove il comune non poteva proprio costruire. E hanno dato il permesso al costruttore di costruire. Detto questo, io chiedo, c'è un immediato intervento da parte dell'amministrazione comunale, non fregandosene, perché qui c'è un unico, una specie di canale, se si può chiamare così, che è ostruito e quindi bisogna disostruirlo. E poi bisogna creare dei sistemi di drenaggio, bisogna creare degli scoli, perché abbiamo, questo rappresenta un imbuto dove tutte le acque vengono a casa mia. Signora, vedevo anche nelle, così lì mi ha mostrato la zona, lei ha dovuto per così dire costruirsi un piccolo muretto, un argine, per fronteggiare eventuali allagamenti. Sì, sì, dovrei fare dei muri ancora più alti per evitare... Arginare l'inondazione. Per non allagarmi in casa, perché altrimenti o il comune mi dà la casa o il comune si sbriga a fare... Penso che a questo punto lì abbia messo anche le mani di un legale per il risarcimento del danno. Nel 2015 ho avuto l'allagamento, ma il comune non è intervenuto. Spero che interviene, perché altrimenti farò un esposto in procura, perché non è normale questa cosa, non è normale niente, perché sono marce a piedi rotti, strade rotte, non danno ascolto proprio ai cittadini. E poi questo canale viene anche ad essere otturato ancora di più dalla spazzatura, dai rifiuti, perché non vengono mai. Bisogna mandare ogni giorno la mail per far raccogliere la spazzatura. E noi non siamo incivili, siamo abbastanza civili perché ci riempiamo la casa di spazzatura. Vengono una volta alla settimana, seppure. Lasciamo le buste dei contenitori appositi, ma vengono molto raramente. Per cui poi sopra i contenitori piccoli si riempiono e vanno a finire tutti nel canale. Questa è la realtà di Taranto, purtroppo. Bene, vi ho voluto rappresentare questa situazione, ma non è solo così uno sfogo. Io nelle sedi competenti, in qualità di consigliere comunale, pretenderò risposte. Anche perché, e concludo, non è un fatto che si è verificato e non si verificherà più. Le cause ostative continuano a esserci. E quindi, con l'arrivo delle... La figlia mi diceva che stava prendendo la corrente. E quindi, con le piogge, pari pari pari, noi ci ritroveremo dinanzi ad ulteriori allagamenti. Questa è l'amministrazione targata Rinaldo Melucci. Grazie.